Cari amici di Occhio TV, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Oggi è lunedì 22 aprile e sono davvero tanti i personaggi della storia e dello spettacolo che sono nati in questo giorno. Iniziamo con una piccola curiosità. Sono nati nello stesso giorno dello stesso anno, e cioè il 22 aprile 1909, due grandi personaggi della cultura italiana. Rita Levi Montalcini, nata a Torino, premio Nobel per la medicina nel 1986, scomparsa lo scorso dicembre alla bella età di 103 anni, e Indro Montanelli, un monumento del giornalismo italiano, nato a Fucecchio, in provincia di Firenze, fondatore e direttore per 20 anni del giornale. Oggi, 22 aprile, festeggiano il loro compleanno anche le amiche Serena Dandini, Mara Maionchi, Anna Falchi, Ambra Angiolini e un bel poker di donne del mondo dello spettacolo. Tanti auguri a tutte voi. Infine, due fuori classe. Il grande Jack Nicholson, uno dei miei attori preferiti, e il calciatore brasiliano ex Milan Kakà. Beh, ve l'avevo detto che oggi davvero dovevamo fare tanti auguri, ma non mi sono dimenticato di un mio amico di Facebook. Tanti auguri anche a Vincenzo Ginefra. Per concludere, vi ricordo che oggi, 22 aprile, si celebra la giornata della Terra. In tutta Italia sono previsti eventi, musica, incontri, al fine di sensibilizzare le coscienze nei confronti della salvaguardia del bene più prezioso che abbiamo, e che è il nostro pianeta Terra. A più tardi.